... Widmer uno contro uno con Piaz, va via Widmer Widmer in area, Widmer mette il cross basso, Maxi Lopez si coordina non riesce a calciare poi la conclusione e il settimo gol dell'Udinese segna anche Ingelsson sinistro potentissimo di Ingelsson e l'Udinese ne fa addirittura sette la prende con grande calma Gino Pozzo in tribuna primo gol con la maglia dell'Udinese per Sven Ingelsson